Oh, ma per carnevalli che si fa? Perchè non si ha la tenuta la verciola, lì all'ex CDD? Viano tutti mascherati, io so, gli è piano di scia. Ehi, che si fa? Sa andare? Oh, chi ha inteso? E vengono anche Claudio e Alberto, ci ho bello fissato io, e si ha con la tua automobile, e si piena più po'. E non lo so, si spende po' la più, non è mia, per la benzina. Madonna, ma tu sei tirato, ti si mette benzina, ven via, ti si mette benzina, fina più po'. E non tu mangeresti più un cacara anche te, ven via. No, non è per favore. L'organizzano quelli li del lato e fanno tutte le feste, c'è la FIA, e si beve un americano, un negrone, si fa il bordello, ma poi io faccio un mascherato, c'ho già il costume, e mi traesto da panino co' il lampredotto, se poi arrivo lì gli fanno tutti... Bucaioli c'è le paste, bucaioli ce n'è tanti, ma le paste le hanno finie. Eeeh! Ti sa se sbagliato la traversa. Ma io ho detto, giro alla prima di girare a destra, si risbucava lì, accidenta qui serpente, ora siamo persi. Buoni questi caramelle però. A catena di Quarrata, sabato 10 febbraio 2018, tenuta alla querciola, ex CDD.